Adesso la parola va al nostro candidato alle elezioni europee, Marco Cristiano. Buonasera a tutti, anche agli spalmanati che erano lì fuori a urlare pensando ancora di essere gli anni 70. Due parole soltanto per presentarmi. Chi mi conosce sa bene che provengo da un'area politica ben indefinita. Ho passato la gioventù a militare nel Movimento Sociale Italiano e passare poi via via nel corso degli anni a militare poi nelle varie formazioni della cosiddetta destra extraparlamentare radicale. Infine approdare poi negli anni 90 nel Movimento Sociale Fiamma Tricolore, nella sua prima fase quando c'era Pino Rauti. Oggi considero conclusa la mia collaborazione con quell'area. Non perché siano venuti meno in me gli ideali di riferimento, assolutamente no. La fedeltà a quegli ideali rimarrà sempre il lacrimotipo della mia esistenza. E anzi, la scelta che sto facendo in questi giorni la considero proprio come una diretta conseguenza di questa volontà di continuità e di fedeltà. La considero conclusa questa collaborazione con quell'area perché ritengo che sia oramai antistorico e fuorviante parlare ancora di destra e di sinistra, o anche di nord e sud come giustamente accenna nel suo volumetto il professor Borghi nella presentazione. È cambiato lo scenario, è completamente cambiato lo scenario politico. La vita politica nazionale è sempre più condizionata da quello che succede nel resto del mondo. E noi nel resto del mondo non vediamo certo una destra e una sinistra battibeccare fra di loro. Lo sconto è molto più articolato e complesso. Esiste un potere economico che cerca di contrapporso a un potere politico. C'è tutto un mondo legato all'otta finanza, alle banche, alle office, alle associazioni, tutto proteso a cercare di condizionare, a cercare di dirigere le politiche economiche di singoli stati, popoli, interi, interi continenti. Pensiamo per esempio a quello che succede in Africa, ma anche a quello che succede in Europa. Perché allora l'euro lo possiamo inquadrare in questo contesto. Cioè un'arma dell'alta finanza per cercare di dirigere e gestire le economie dei popoli europei. Gli stati nazionali dell'Europa oramai sono privi di autorità. I nostri governanti non hanno più nessun potere decisionale. Sono soltanto come dei semplici amministratori di un condominio. Chi comanda realmente oggi in Europa è una oligarchia di banchieri e tecnocrati che specula sulla pelle dei popoli. Del resto, questo assalto del mondo economico oggi si sta semplicemente palesando alla luce del sole. Ma in realtà ha radici molto antiche. La classe mercantile ha sempre cercato di condizionare le scelte di sovrani, re, imperatori. La storia degli ultimi secoli la possiamo leggere sotto questa chiave di lettura. Il tentativo dell'eterno usuraio di cercare di ascendere i ranghi delle comunità civili per sovvertire i valori di riferimento, i valori tradizionali, per sovvertire con i propri valori quell'ideologia del profitto e del denaro. Ma torniamo ai nostri giorni. Basta euro, stop immigrazione. In una campagna elettorale calabrese parlare di immigrazione forse può sembrare un argomento secondario. Ma così non è se lo inquadriamo sempre nel contesto europeo. Le migliaia e migliaia di clandestini che sbarcano sulle nostre coste sono in effetti un'arma formidabile nelle mani sempre di quei poteri forti per cercare di scartinare le economie dei singoli stati, cercare di alterare il mercato del lavoro e alla lunga comunque cercare di distruggere anche le identità culturali dei popoli, sia dei popoli accoglienti, noi, ma anche dei popoli migranti. Siamo tutti destinati a diventare un'unica massa informe, omologata, amalgamata, buona soli a consumare gli stessi urici prodotti che loro ci propinano. Quindi euro e l'immigrazione sono due argomenti connessi fra di loro. Sono come due branche di una stessa etenaglia rivolta contro i popoli europei. Un'ultima considerazione la voglio fare in merito alle perplessità che molti mi hanno espressi in questi giorni, tutti. Dice, ma come? Ti cambi di proprio quella Lega. Perché la Lega, vabbè, è l'ultimo di nasconderlo, qui a noi non ha un altro indice di gradimento. Ma forse perché anche siamo abituati a conoscerla sotto un certo aspetto, un certo cliché che ci viene in posto da certe massimiglie. A queste persone rispondo, beh sì, mi candido con la Lega, perché la Lega è l'unico partito che ha osato proporre un progetto politico basta euro per uscire dall'euro. Quindi un progetto politico proposto dalla Lega, sì, ma che ha un interesse nazionale, interessa nord e sud. Uscire dall'euro interessa ciascuno di noi singolarmente. La vita quotidiana di ognuno di noi singolarmente è pesantemente condizionata dall'euro. E noi del Movimento Territorio del Lavoro abbiamo subito entusiasticamente abbracciato questa idea di federazione con la Lega, consapevole e fiere di far parte così di una compagine di movimenti europei che fanno capo al fronte nazionale di Marine Le Pen. Anzi, se devo dire, la verità per me è stato il processo inverso. La voglia di affiancarmi al fronte nazionale di Marine Le Pen mi ha portato a scegliere chi in Italia è il referente del fronte, cioè la Lega, l'unico partito riconosciuto come alleato del fronte. Del resto, io comunque personalmente, per gli amici della Lega, ho sempre avuto una sorta di affinità e simpatia, così come ce l'ho sempre avuto per tutti coloro che hanno a cuore i destini del proprio popolo, della propria cultura e del proprio territorio. E per me, che sono un nazionalista, popolo, cultura, territorio, sangue e suono, rappresentano ancora dei valori per i quali vale la pena combattere. Grazie per la visione.